state ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com va bene lo so che è tardi lo so lo so dobbiamo ancora iniziare questo né inizio né fine né inizio né fine non accoda questa trasmissione perché siamo in prove tecniche di trasmissione oggi sono le ore 16 per coloro che ci ascoltano in diretta salutiamo anche lo studio 5 che è sempre sul pezzo e ora invece sentiamo lui sentiamo lui ecco probabilmente sta ancora dormendo eh l'abbiamo già chiamato quattro volte meraviglio che non ci manda ancora quel paese come la canzone di lui del nostro grande alberto sordi eh quella canzone te ci hanno mai mandato quel paese eh se lo ricorda dottor Stella? Sì io abito nel mio paese dopo gli altri non lo so ah ho capito ma la canzone di alberto sordi se la ricorda? Mi piaceva la sigla quella là che era quella bella lo so quella là ecco ricordiamo che giorno è? Oggi dovrebbe essere giorno 6 esatto venerdì 6 marzo 6 allora perché siamo qui in questo momento? eh se non siamo se non saremo qua saremmo stati dall'altra parte giusto? eh mi sembra anche giusto eh sì esattamente allora caro dottor Stella tra un po' è la festa delle donne? eh sì allora per queste prove tecniche di trasmissione il 8 marzo è la festa delle donne e lei ha preparato una mimosa tutta scolpita eh d'argento con me l'ha fatta? sì è tutto organizzato sì mi fa piacere bene può salutare perché dopo questo termina qui queste prove tecniche va bene bene salutiamo anche il dottor Stella io invece sono amorista DJ vi ringrazio per queste trasmissioni sperimentali prove audio attendo ancora il tecnico che mi comunica non vedo ancora nulla ma comunque mi sa che va bene non ho capito il messaggio quello che hai scritto nel gruppo non ho afferrato eh quello che volevi dire forse ho capito ma eh che cosa volevi dire non ho capito quale ti riferisci eh perché non quello di Sunny V DJ che hai detto come ho capito eh no era l'ultimo che mi era riferito ma non ho capito cosa volevi dire eh ecco allora e per il tecnico io sto abbassando Loris eh ancora ecco e mi spiegami il contenuto eh avevi scrivuto mi pareva complimenti e una roba del genere ah sì 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 ma quello molto tempo fa eh no perché sono già le 16.03 penso che ho un'altra moderazione ecco è tardi e lo so lo so che è tardi poi devo preparare il cartello per l'antenna ancora c'è la Jacqueline che sta è in fermento eh lo so tra luce e colori eh colori psicodeliche esatto termina qui questo programma nel inizio e nella fine spero che vi sia piaciuto il nostro programma di oggi è stato molto interessante è divertente eh sì pieno di fantasia eh capito? no perché il bello ma deve andare così queste prove tecniche di trasmissione eh sì almeno portiamo un po' di sorriso perché noi facciamo anche gli antilisti gli elettricisti ecco dice che la Jacqueline ci porta il sorriso a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici saluta saluta tutti che è tardi ciao 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 bene salutiamo il dottor Se io invece saluto tutti voi perché è tardi lo so lo so che è tardi io vi saluto e alla prossima prove tecniche di trasmissione alla prossima e buon proseguo letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti